Sono 139 tra il 2010 e il 2016 i casi contenuti nel fascicolo dell'indagine della Guardia di Finanza di Verbagna per la vendita di azioni e obbligazioni della ex Veneto Banca. Dai vertici dell'Istituto di Credito ai direttori di filiale, ai singoli impiegati che agli sportelli proposero ai clienti gli investimenti, l'ipotesi di reato è la stessa, truffa in concorso. Ai clienti sarebbero stati infatti venduti pacchetti finanziari senza le adeguate informazioni sui profili di rischio di ciascuno. Gli investimenti andarono in fumo con il fallimento della banca e in alcuni casi con cifre anche molto alte. Le filiali coinvolte erano a Verbagna, Canero, Cannobbio, Domodossola, Villa Dossola, Pieve Vergonte, Druogno, Dormelletto. Il caso più eclatante è a Canero Riviera dove una coppia di pensionati di 77-70 anni investì circa 500.000 euro. In tutto si tratta di centinaia di migliaia di euro ma è solo una piccola parte di tutti i soldi di risparmiatori del VCO andati in fumo con il fallimento di Veneto Banca.